Aldo Clementi, allenatore della Vigor Senigallia, quella palla era entrata oppure no? Sarebbe stato il 3-3? Sì, sarebbe stato il 3-3, però dobbiamo accettare la decisione di chi dirige la palla. Ma lei come l'ha vista? Io ho visto palo palo, ma magari mi posso soffermare su quello che qualche abbezzario ha detto, che la palla sembrava veramente dentro. Però non lo faccio mai, quindi non lo vorrei fare neanche questa volta, non vorrei giudicare una prestazione su un episodio. È vero che è un episodio che poteva cambiare la partita, ma se non sappiamo accettare i verdetti e non sappiamo ripartire da una sconfitta, credo che faremo poca strada. Ovvio, io capisco il rammarico, capisco la tifoseria, capisco la difficoltà da parte dei nostri giocatori che erano lì ad accettare una sconfitta dopo un episodio del genere. Però io da allenatore non posso ragionare su un episodio. All'allenatore devo valutare la prestazione, devo pensare che... Prestazione comunque molto buona, soprattutto una prestazione di reazione a quello che stava accadendo in campo. È stato molto difficile perché siamo andati sotto subito. Sapevamo che sulle ripartenze era una squadra molto forte e l'abbiamo anche visto, perché comunque organizzare una fase difensiva quando tu sei votato ad andare a recuperare contro questi attaccanti è molto difficile. Quindi le difficoltà erano massime. Però credo che siamo stati comunque sempre in gara, nonostante fossimo due gol sotto. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prestazione. Nel secondo tempo abbiamo giocato un gran calcio, abbiamo giocato solo noi. Credo che meritavamo, al di là dell'episodio, non posso strumentalizzare un episodio. Dico che non meritavamo di perdere assolutamente. Si gioca in undici, però Pesaresi, mi permetta di sottolinearlo, questo giocatore non è in perfette condizioni fisiche, però incide sempre. Sì, è ovvio. Il nostro capitano è il nostro centravanti. In questo momento è il nostro unico centravanti. Speriamo, noi dobbiamo augurare a Pesaresi una buona salute perché senza di lui facciamo fatica. Oggi, domenica, ha proprio un assaggio e ci ha risolto la partita. Oggi ha fatto un tempo con due gol. È comunque un fattore importante per noi, ci permette anche di giocare in un'altra maniera. Non solo, è sempre comunque palla a terra. Quindi speriamo che la salute assista il nostro capitano e poterlo sfruttare. L'ultima. Adesso il vostro campionato, quello della Vigor, come andrà avanti? Nel senso, voi avete respirato l'aria d'alta classifica, però siete lì tutto sommato. In un campionato, io direi, anche molto equilibrato. Se si perde o se vince una partita, si può andare su o giù? Sì, io credo che alla quarta di campionato uno possa fare dei voli pindarici. Siamo, secondo me, abbiamo dimostrato anche oggi al cospetto di una squadra che apertamente dice di voler puntare al titolo, di essere all'altezza, di essere comunque una squadra che si gioca la sua partita senza paura con tutti. Poi, quello che sarà il nostro campionato non lo so, lo decideranno le nostre avversarie partita dopo partita. Adesso dobbiamo solamente focalizzarci su quello che è il nostro prossimo impegno. Non farei, per la Vigor non farei grandi programmi.